Mio padre lavorava la carne di cavallo, ma il tordo matto non era un prodotto pronto in macelleria. Venivi in macelleria, prendevi la carne che ti serviva per fare il tordo matto e io se lo facevo per conto proprio. E invece io con i miei fratelli abbiamo portato avanti questo prodotto già pronto. Oggi inizia la storia di Tordomatto, la nostra bottega moderna. Ma praticamente c'è stata una trasformazione di quello che era supermercato a quello che oggi è un negozio specializzato. Una macelleria, salumeria specializzata, contornata da tutti i prodotti artigianali, locali, italiani e anche esteri, ma di qualità, sempre di qualità. È un'attività storica nel paese di San Cesario che porta avanti la tradizione culinaria del tordo matto. La famiglia è storica perché ha tradizione zaccarolese che però riporta anche qui a San Cesario la tipicità del tordo matto, un prodotto particolare, una certa tradizione che si rinnova anche qui a San Cesario. E quindi siamo qui oggi per la vicinanza e soprattutto per augurarle un grande in bocca al lupo alla famiglia da parte mia e dell'intera amministrazione comunale. Mia madre faceva questo lavoro, mio padre faceva questo lavoro, lavorava la carne di cavallo a Zaccarolo. Siamo venuti qui a San Cesario che già mio padre aveva messo un negozio di carne di cavallo qui 60 anni fa. Poi è stato chiuso e poi 30 anni fa sono venuto io qui. Il tordo matto è un involtino di carne di cavallo con battuto di lardo e di maiale cotto sulla brace o in padella col vino. Nel nostro locale, oltre a trovare questo piatto tipico, possiamo trovare anche dei prodotti tipici di varie regioni italiane. La novità in assoluto è che siamo diventati fornitori ufficiali delle pastiglie leoni, nonché della cioccolata della leone. Inoltre abbiamo offerto ai nostri clienti un servizio in più, cioè quello di degustare i nostri taglieri, i nostri panini, i nostri prodotti sedendosi ai tavoli. È l'unico modo per poter portare avanti questo lavoro, questo mestiere. Già che questo lavoro noi lo facciamo da sempre, quindi abbiamo una lunga esperienza. E quindi riconosco un animale come è allevato, da chi è allevato. Andiamo direttamente dal produttore di questo animale. E quindi propongo queste carni che poi ai nostri clienti sono legati proprio per questo. Vi aspettiamo dal lunedì al sabato per degustare tutti i nostri prodotti. E vi ricordo che fino a sabato 7 avete uno sconto del 15% sul tordo matto. E quindi a sabato 7 avete uno sconto del 15% sul tordo.